Si parla oggi a Milano di motori e quindi i protagonisti delle moto, raccontaci un po' quello che ti aspetta per questo 2019. Quello che mi aspetta è una stagione in Moto3, nel Moto Mondiale, col team C58 squadra corse e sarà sicuramente un anno interessante. Perché è qualche anno che sono in questa categoria e quindi ho una buona esperienza e cercheremo di fare molto bene. Quanto è importante vivere in Emilia Romagna, terra di motori, per rendere nel motociclismo? È importantissimo perché diciamo che questa è una terra che anche col clima non è troppo freddo d'inverno, quindi favorisce anche magari andare a girare tutto l'anno e quindi quando sei piccolo è più facile iniziare, magari più al nord ecco, poi ci sono moltissime piste e quindi è una terra dove è più facile iniziare. Si parlava prima di circuiti e dicevate invitateci pure a correre nei vostri circuiti, ce n'è uno che preferisci? A me piace tanto Misano perché è vicino a casa mia e mi alleno spesso lì insieme alla VR46 Riders Academy che faccio parte e quindi io sono condetto, però se si può andare a girare anche in altri circuiti come quello di Modena perché no? Grazie.